In un'epoca di grandi trasformazioni portate nel mondo l'amore di Gesù accogliendo e accompagnando, perché il campo della missione oggi sembra allargarsi ogni giorno, abbracciando sempre nuovi poveri, uomini e donne che chiedono aiuto, consolazione, speranza nelle situazioni più disperate della vita. È la raccomandazione che Papa Francesco ha rivolto ai partecipanti al capitolo generale dei missionari oblati di Maria Immacolata, ricevuti in udienza nel bicentenario di fondazione ad opera di Sant'Eugenio di Masenot. Il pontefice ha ricordato con ammirazione il lavoro del giovane sacerdote che cercò di riaccendere la fede che la rivoluzione francese stava spegnendo, un uomo dell'avvento che richiama a tutti l'importanza della misericordia e della carità nell'annuncio gioioso del Vangelo e lo zelo per la salvezza delle anime. È necessario cercare risposte adeguate, evangeliche e coraggiose agli interrogativi degli uomini e delle donne del nostro tempo. Per questo occorre guardare il passato con gratitudine, vivere il presente con passione e abbracciare il futuro con speranza, senza lasciarvi scoraggiare dalle difficoltà che incontrate nella missione, ma forti nella fedeltà alla vostra vocazione religiosa e missionaria.